Estate all'insegna della sicurezza anche nelle spiagge libere, come ormai avviene da diversi anni, a vigilare sull'incolumità dei bagnanti ci sono le unità cinofile della SIX, la scuola italiana cani da salvataggio, che insieme ai propri compagni umani presidierà nei weekend il litorale. La sicurezza, purtroppo certe volte la distrazione, compreso anche noi adulti, quindi noi genitori, noi zii, noi sorelle, fratelli, lasciamo i bambini un po' troppo nella libertà perché la spiaggia per quanto possa essere un luogo di gioco è anche un luogo pericoloso e come tutte le cose il mare va molto rispettato. Appella alla prudenza e alla responsabilità, alla luce dei dati registrati sia a livello nazionale che regionale, ecco dunque alcune accortezze da rispettare in mare. Attenzione ai bimbi che sono in prossimità dell'acqua, attenzione sempre, cioè l'allerta deve essere sempre alta, soprattutto non farli immergere dopo che hanno mangiato, tenerli d'occhio quando giocano in riva a fare i castelli, che per carità sono giochi ludici e i bambini hanno bisogno di questo, degli spazi di libertà, però noi adulti che siamo responsabili e avvertiamo il pericolo, un occhio in più fa sempre bene.